Nonostante il contesto difficile causato dalla pandemia guardando al futuro, il comune di Querovas e la Proloco di Caorera sono al lavoro per rivedere l'organizzazione del Parco Fluviale della Madonna del Piave, un'area che ha dovuto fare i conti anch'essa con i danni provocati dalla tempesta vaia, ma non solo. Tuttavia nel periodo di bel tempo, normative Covid permettendo, frequentata da molti. Abbiamo fatto proprio di recente un incontro con la Proloco dove abbiamo un po' ripercorso gli ultimi anni, dove sono stati fatti numerosi investimenti, in particolare tutta l'area a servizio non solo delle manifestazioni ma proprio delle fruizioni turistiche al cosiddetto Parco del Piave, dove ci sono attrezzature di tutti i tipi ed è molto frequentato. Il problema adesso è regolamentare questo accesso dando anche servizi migliori e quindi a Proloco si sta organizzando, questo è il nostro auspicio, che venga, come dire, realizzato un vero e proprio parco con accessi limitati, controllati, fornando anche dei servizi importanti, quindi i servizi igienici, le docce e quindi tutta la fruizione sia in qualche maniera regolamenta, perché diversamente adesso succede che tutti accedono e poi si trova anche spesso rifiuti abbandonati, questioni che non va assolutamente bene. Quindi il parco è nato per dare un'opportunità ai turisti, un po' su quello che è stato fatto anche a Schivenin negli ultimi anni, quindi col chiosco, con la possibilità della gente di accedere, di trovare servizi, di trovare i camminetti, quindi quello che è una fruizione che soprattutto anche con l'emergenza Covid si è visto nell'estate scorse essere molto molto apprezzata. Il parco comprende ad esempio delle aree picnic, un campo da beach volley, un percorso salute. La gestione è affidata alla Proloco. La Proloco di Caorara intende mettere un po' a posto il parco sul piave, ripestinando i servizi a favore dell'utente e per renderlo più agevole ha intenzione di fare una recensione, di acquistare di barbecue e acquistare anche di tavoli e delle panche. Il suo delizio sta inoltre pensando alla figura di un possibile custode per il parco.